Rassalta l'emergenza nella regione di Valencia, tre giorni dalle alluvioni che hanno travolto la Spagna provocando oltre 200 morti accertati. Infuriano le polemiche per l'allerta tardiva e continuano le ricerche dei tanti dispersi con un numero non ancora quantificabile. Sono 360.000 le persone senza acqua potabile, 50.000 quelle senza elettricità, decine gli arresti per sciacallaggio. Stato di massima allerta in Israele dopo l'ordine di attacco dato secondo New York Times dalla Yatollah Khamenei, la risposta iraniana sarà inimmaginabile. Ha minacciato il comandante delle guardie supreme iraniane, l'ONU accusa Tel Aviv, il divieto imposto all'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi equivale a una condanna a morte per 2 milioni di persone. Incontro a Mosca tra la ministra degli esteri nordcoreana e il suo omologo russo Lavrov. Pur non confermando lo schieramento di proprie truppe sul fronte ucraino, Pyongyang si dice a fianco di Mosca fino alla vittoria, è pronta se aggredita a rappresaglie nucleari. Lavrov avverte siamo sull'oro di un conflitto militare diretto con gli Stati Uniti. Giappone e UE firmano a Tokyo un nuovo patto di sicurezza e difesa, monito di Pechino che non sia contro terzi. Prima il voto delle regionali in Emilia, Romagna e Umbria, poi l'elezione del presidente dell'Anci, infine la delicatissima assemblea costituente del Movimento 5 Stelle. Sono i tre appuntamenti in calendario nel mese di novembre che possono essere considerati fondamentali per il futuro del centro-sinistra e ancora più del campo largo. Molto dipenderà dalle scelte di Giuseppe Conte. Con due successi esterni rispettivamente su Genoa e Como, Fiorentina e Lazio superano la Juventus in classifica e si portano al terzo posto. La Roma soffre ma batte il Torino grazie a un gol di Dybala, una vittoria che non mette comunque al sicuro il futuro di Juric sulla panchina giallorossa. Dunque una buona giornata dal telegiornale della 7. Cominciamo ancora una volta dalle immagini e le notizie che arrivano dalla zona della Spagna pesantemente colpita da quell'apocalisse di pioggia che ha messo in ginocchio Valencia la sua intera regione. Per l'altro è un'allerta meteo che continua in queste ore, c'è un livello di massima sicurezza da contenere nella zona delle Balearie e soprattutto un'allerta rossa in Andalusia. Veniamo a quel che è stato però, quel che ancora è da certificare nei numeri. L'ultimo bilancio aggiornato pochi minuti fa parla di 206 vittime accertate, c'è ancora un numero da quantificare di dispersi e soprattutto una devastazione che ha tolto tutto, ha tolto elettricità, ha tolto acqua e soprattutto certezze alla popolazione colpita, ricordata oggi anche da Papa Francesco. Il popolo aiuta il popolo, scrivono sui social colonne di persone in marcia per dare aiuto a chi ha perso tutto. In mano vanghe, spazzoloni e buste è l'immagine simbolo che rimbalza oggi dalla Spagna a tre giorni dalla devastazione. Questa è la mia casa? Per esempio, come sono io? Il mio. Toda la vita, vivendo. Hua Vincente Perez mostra le telecamere, quello che è rimasto della sua casa a Civa, tra i comuni della comunità valenziana più devastati dalla goccia fredda, come la chiamano, che nella notte tra martedì e mercoledì ha sconvolto il paese. Ho 62 anni, ho sempre vissuto tutta la mia vita qui insieme ai miei genitori, tutti i miei ricordi se ne sono andati in una notte racconta tra le lacrime. Se io avessi lasciato la mia casa, 5 minuti dopo, sarei morto. Ringrazio i miei vicini che ci hanno ospitato. Non c'è stato allarme, spiega Wan. Quello che è successo ha colto tutti di sorpresa. Ma è anche vero che è stato qualcosa di straordinario. Neanche i miei genitori, che pure hanno vissuto l'alluvione del 1957, hanno mai visto una cosa del genere. Questa è stata una catastrofe. Più di 200 morti, ma il bilancio è ancora provvisorio. Le squadre di soccorso sono ancora alla ricerca di dispersi. Tanti, sepolti dalla valanga di acqua e fango che si è riversata sulle strade. È entrata in cantine e garage, ha riempito case ed uffici fino ad oltre 3 metri di altezza. Molti sono morti annegati in casa, nelle proprie auto trascinati via dalla furia dell'acqua. Che sarebbe arrivata Dana, come la chiamano in Spagna, la depressione isolata d'alta quota, si sapeva. Ma nessuno si è messo al sicuro e tutti hanno continuato a fare la loro vita, nonostante gli allarmi diramati dai climatologi. Un'emergenza trasformata in tragedia. Sul banco degli imputati finisce tra i primi Carlos Mazzone, presidente della regione autonoma di Valencia. Ad inchiodarlo alle sue responsabilità è questo video diffuso nel suo account ufficiale intorno alle 13 di martedì 29 ottobre e poi cancellato la sera. Secondo le previsioni, il temporale si sta spostando, cosa che fa sperare che intorno alle ore 18 diminuirà la sua intensità in tutto il territorio della comunità, dichiara Mazzone. Considerato quello che sta succedendo, le cose stanno andando avanti fortunatamente senza danni materiali e senza allerta idrologica. Poche ore dopo, nel pomeriggio, sarebbe invece cominciata la fase più violenta delle inondazioni. Adesso migliaia di persone si ritrovano senza casa. 50.000 senza luce, 360.000 senza acqua potabile. Difficilissimo trovare anche il cibo. Strade e autostrade inagibili, ferrovie bloccate. Soccorritori, eserciti e volontari lavorano giorno e notte per aiutare la popolazione e ripulire negozi e supermercati. Addirittura si recuperano dal fango tutte le bottiglie d'acqua ancora sigillate. Da una parte la solidarietà, dall'altra il volto più nero delle tragedie. Decine di sciacalli sono stati arrestati mentre saccheggiavano soprattutto negozi di elettronica. Avete visto queste immagini impressionanti di devastazione, quel che resta dopo ogni volta che un evento estremo meteorologico colpisce una regione. Ve ne abbiamo raccontati tanti, sempre più intensi, sempre più frequenti. C'è un ultimo report che riguarda anche i costi economici di queste tragedie che metterebbero a rischio, nei dati analizzati, un quinto della popolazione mondiale. E la situazione, secondo questo report, è destinata a peggiorare inevitabilmente se non si invertiranno una serie di tendenze. Guardiamo. Un taxi ferma ad un semaforo durante una notte di pioggia. All'improvviso un albero cade schiacciandolo. Il tassista racconta è salvo per miracolo, aveva appena lasciato alcuni passeggeri e stava per prenderne altri. Immagini che potrebbero arrivare dalla Spagna, invece siamo ad oltre 10.000 km di distanza a Taipei. Negli stessi giorni l'isola di Taiwan è stata travolta dal tifone King Ray, che con i suoi eventi fino a 184 km orari ha provocato inondazioni e frane. Il bilancio al momento è di due morti e 500 feriti, si cercano quattro dispersi. Uragani, tifoni e cicloni che provocano inondazioni devastanti, piogge torrenziali come quelle che solo una settimana fa hanno colpito la Liguria ed altre regioni del nord, ma anche incendi che devorano migliaia di ettari di terreno. Eventi estremi attraversano la terra ormai quasi senza soluzione di continuità, devastando campagne e città, provocando vittime e danni economici pesantissimi. La Banca Mondiale ha calcolato che in 20 anni i costi finanziari della crisi climatica sono arrivati a 2.800 miliardi di dollari e un quinto della popolazione del pianeta, un miliardo e 200 milioni di persone, vive in una condizione di alta vulnerabilità agli shock climatici. La maggior parte in Asia Meridionale e nell'Africa subsahariana, paese a basso reddito dove mancano infrastrutture di base e servizi sociali per affrontare questi eventi estremi. Le cifre sono contenute in un rapporto basato su uno studio pubblicato l'anno scorso su Nature Communication che analizza 185 eventi estremi che si sono verificati tra il 2000 e il 2019 ed hanno causato ogni ora danni per 16,3 milioni di dollari, 143 miliardi di dollari ogni anno. Le Nazioni Unite sottolineano che le politiche messe in campo dai governi per contenere i gas serra non sono sufficienti. L'aumento delle temperature a fine secolo viaggia spedito verso i 3 gradi centigradi, il doppio della soglia di sicurezza di 1,5 gradi indicato negli accordi di Parigi del 2015 e raccomandato dagli scienziati. Negli ultimi anni nell'Unione Europea c'è stato un forte aumento dei costi dovuti agli eventi estremi. Tra il 1980 e il 2022 gli stati membri hanno dovuto affrontare 650 miliardi di euro di spese dovute soprattutto alla mancanza di politiche di prevenzione. Una situazione globale preoccupante all'insegna della quale l'11 novembre si apre a Baku la conferenza ONU sul clima. Andiamo ai conflitti in corso, una giornata di particolare tensione internazionale. Cominciamo dal Medio Oriente con Netanyahu che convoca il gabinetto di sicurezza per domenica sera. Il contesto è quello complicato da una parte di attesa di risposta iraniana e poi dall'altra parte c'è la pressione crescente statunitense sulla possibilità che Netanyahu molli la presa, accetti una tregua e soprattutto non stringa più le maglie nei confronti del Libano. Israele riceverà una risposta inimmaginabile, feroce ed energica. Tel Aviv ha commesso un altro errore e ne pagherà le conseguenze. A parlare il capo delle guardie della rivoluzione iraniana, Hossein Salami, è affidato alla propaganda, l'ordine impartito dalla Guida Suprema, lì Kamenei al Consiglio Supremo di Difesa della Repubblica Islamica di preparare un attacco contro Israele e rispondere all'attacco subito sabato scorso contro alcuni siti militari nelle province di Teheran, Ilham, Qudessan, Sharoud e Kojir. Secondo quanto scrive il New York Times, Kamenei avrebbe preso la decisione dopo aver esaminato un rapporto dettagliato dei comandanti militari sull'entità dei danni provocati dal raid. Attacchi che potrebbero avere compromesso la capacità di produzione missilistica del paese, i sistemi di difesa aerea intorno alla capitale, le infrastrutture energetiche critiche e un porto situato nel sud. I danni e le vittime, avrebbe detto Kamenei e generali, erano troppo grandi per essere ignorati e non rispondere, significherebbe accettare la sconfitta. Dunque un deciso cambio di passo, dettato dalla necessità di reagire alle incursioni israeliane, eppure subito dopo l'attacco, la guida religiosa, smorsando i toni, aveva chiesto ai suoi consiglieri di decidere alle risposte in base a ciò che sarebbe stato meglio per il paese, ma senza promettere vendita. Tel Aviv intanto si prepara alla possibile contromossa iraniana. Israele ha detto alla CNN, un autorevole, fonte militare dello Stato ebraico, a un alto livello di preparazione per rispondere ad un eventuale nuovo attacco iraniano. «Possiamo raggiungere qualsiasi posto in Iran, se necessario», ha sottolineato Netanyahu, che ieri ha ricevuto i due inviati di Biden per il Medio Oriente, McGarca e Hoxstein. E proprio gli Stati Uniti hanno rinnovato il loro sostegno all'alleato israeliano. Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha ribadito che gli Stati Uniti sono pronti a difendere il personale americano, Israele, e i partner nella regione dalle minacce dell'Iran. Regione, che dopo gli attacchi delle ultime ore sembra essere sempre più instabile, dure le parole del premier libanese Mikati dopo i bombardamenti della notte su Beirut, confermano il rifiuto dell'emico israeliano agli sforzi compiuti per assicurare un cessato il fuoco. E nella notte le cannoniere israeliane, che pattugliano la costa di Gaza, hanno aperto il fuoco sulle città di Deir al-Baladi, al-Zawaida, e sul campo profughi di Nuserat. Decine le vittime, la maggior parte, bambini e donne. Dalle Nazioni Unite un nuovo appello contro il divieto ad operare dell'Agenzia per i Rifugiati, votato dalla Knesset. È una condanna a morte per quasi 2 milioni di persone, mentre il capo dell'Agenzia, Filippo Lazzarini, denuncia le ruspe dell'esercito israeliano hanno gravemente danneggiato il nostro ufficio in Cisgiordania, che non può più essere utilizzato. Sono state distrutte anche le strade, le reti idriche ed elettriche. E poi c'è il conflitto in Ucraina, con quell'annuncio della Nord Corea, saremo in fianco di Mosca fino alla vittoria finale, con il timore crescente che proprio l'esercito nordcoreano entri da protagonista in questo conflitto. La Corea del Nord è fermamente accanto ai suoi compagni russi e non ha alcun dubbio che sotto la saggia guida del rispettato presidente Putin, la Russia riporterà una grande vittoria in Ucraina. Con queste parole riprese dall'Agenzia di stampa TASS, la ministra degli esteri Chosun Wei, in visita a Mosca, sembra confermare al collega russo Sergei Lavrov la possibilità che l'esercito di Pyongyang entri attivamente nel conflitto ucraino. Sarebbero almeno 8.000, secondo il segretario di Stato americano Anthony Blinken, i soldati nordcoreani schierati nella regione russa del Kursk, che potrebbero essere impiegati per respingere le truppe di Kiev, che dal 6 agosto scorso ne hanno conquistata una parte. Il no comment del portavoce del Cremlino, Dmitry Pieskov, arriva dopo la mancata smentita la settimana scorsa, da parte di Vladimir Putin, del trasferimento di un contingente nordcoreano in Russia. A motivarlo, sempre secondo il presidente della federazione russa, sarebbe l'articolo 4 di un non meglio precisato trattato di cooperazione strategica tra Mosca e Pyongyang, che prevederebbe l'aiuto militare reciproco Russia-Nordcorea in caso di aggressione di uno dei due paesi. Tra le nostre forze armate e i nostri servizi segreti, ci sono contatti molto stretti, e questo permette di risolvere problemi importanti per la sicurezza dei due popoli, sossiene Lavrov, che si spinge oltre, sottolineando, siamo sull'orlo di un conflitto militare diretto con gli Stati Uniti. Corea del Nord e la Russia sono due stati sovrani indipendenti, il modo in cui sviluppano le relazioni bilaterali è una questione loro, afferma intanto il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino. Per il presidente ucraino Zelensky, Mosca starebbe aspettando la reazione occidentale, dopodiché deciderà quando e quanto rinforzare il contingente russo già schierato. L'invio di truppe di Pyongyang in Russia aggrava lo scenario dell'Est Europa, dichiara il Ministro della Difesa Crosetto. Tutto questo, mentre Giappone e Unione Europea firmano a Tokyo un nuovo patto di sicurezza e difesa che, in vigore da gennaio, prevede anche ulteriori esercitazioni militari congiunte, intesa che il capo della politica estera dell'Unione Europea, Joseph Borrell, saluta come un passo storico e tempestivo. Dopo l'incontro col Ministro della Difesa giapponese Nakatani, però, è proprio il numero uno della diplomazia dei 27 a postare su ex la ferma condanna condivisa del lancio illegale di un missile balistico intercontinentale da parte della Corea del Nord. Dunque, anche questo rafforzamento dell'alleanza strategica tra Kim e Putin preoccupa la comunità internazionale, in particolare gli Stati Uniti, alle prese con gli ultimi colpi di una campagna elettorale in vista delle presidenziali, che in qualunque direzione andrà come esito, sarà storica. Se dovesse vincere Kamala Harris, se dovesse riconfermarsi con un mandato non consecutivo, Trump sarebbe in questo caso a centrare l'obiettivo il primo presidente dell'era moderna. Non è una campagna elettorale, è una gara a chi offende si offende di più. La questione spazzatura portoricana, per dire. Sembrava che Trump si fosse portato a casa il risultato con quella scenetta a bordo del camion della spazzatura. Poi però, a guardare meglio, salta fuori che lui scivola. Alcune televisioni tagliano la sequenza. Insomma, ecco, è vecchio. Vedete rimbandito quanto è più di Biden. E a quel punto la palla è di nuovo al centro. Poi oggi, sia Trump che Harris si ritrovano in Nevada, solo che lei ha al suo fianco la più famosa dei portoricani, che sarà pure stata Jennifer from the Block, ma ora è una elegantissima e soprattutto ricchissima star hollywoodiana. E quando dice che le piacerebbe che vincessero i buoni, come nelle favole, e dunque bisogna votare per Kamala, anche perché Trump non ha offeso solo i portoricani, ma tutti i latinos, non si capisce se viene percepita più come miliardaria o come immigrata. Furba, però, perché al contrario di Beyoncé, che pure aveva appoggiato Kamala Harris, almeno Jennifer Lopez un paio di canzoni le canta, così la gente non muvugna. D'altro canto, Trump non ce la fa a non usare stereotipi anche quando vuole fare il simpatico. E nel tentativo di lisciare il pelo a quegli stessi latinos, che aveva offeso solo due giorni fa, dice che adora gli ispanici, sono persone fantastiche, a volte però troppo affettuosi, e qualcuno già si risente. Per non parlare delle donne, ieri aveva detto che le avrebbe difese pure se non volevano. Kamala Harris dice che è la prova che non farà nulla per loro, anzi, non rispetterà le politiche riproduttive, il loro libero arbitrio e i loro diritti, e il tentativo di ingraziarsele gli si rivolta contro. E così quanto Trump in una intervista poco dopo dice che Harris è stupida come una pietra, la levata di scudi è assicurata. Poi ci sono i comprimari. Il vice di Trump oggi se la prende con quei ragazzi che dice si fingono trans per entrare, grazie alle quote loro riservate, nelle università più prestigiose. È roba di nicchia, ma anche qui supporter e offesi garantiscono polemiche. La verità è che ballano ben sette stati almeno, quelli che faranno la differenza dove il testa a testa è serratissimo e chi vincerà nessun sondaggio serio al momento è in grado di dirlo. Che insomma con le dovute proporzioni riguarda anche i nostri prossimi appuntamenti elettorali, quelli delle regioni, in particolare una regione, l'Umbria, di cui passa molto del presente del futuro del campo largo, di quel che resta del campo largo, dei veti incrociati e delle alleanze del centro-sinistra, però in questo novembre sono tante le scadenze importanti. Per il futuro del centro-sinistra novembre è un mese pieno di appuntamenti. Un vero e proprio percorso a ostacoli che inizia il 17-18 con le elezioni regionali in Emilia Romagna e Umbria. L'ambizione del 3-0 è ormai in soffitta, assieme alle 8.400 schede che hanno sancito la sconfitta in Liguri di Andrea Orlando. Una sconfitta bruciante, figlia del veto di 5 Stelle e verde-sinistra, a Matteo Renzi e allo scontro a distanza tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo sul futuro del Movimento 5 Stelle. Proseguire con il campo largo o tornare alle origini e andare da soli? La grande domanda, a legge tra i parlamentari pentastellati, sarebbero almeno una decina, quelli in attesa di capire cosa uscirà dalla Costituente per stabilire cosa fare del proprio futuro, se rimanere nel Movimento e come. I territori sono sul piede di guerra, lamentano l'assenza dei vertici e dei parlamentari stessi. In questa crepa potrebbe insinuarsi Beppe Grillo. Il garante aspetta il prossimo step elettorale. Un cattivo esito del voto per i 5 Stelle potrebbe essere un assist in vista della Costituente. L'Assemblea è prevista sabato 23 e domenica 24 novembre. L'ala movimentista, vicino a Grillo, continua a pungere. Ieri Danilo Toninelli è intervenuto con una diretta social a ribattere l'attacco di Paola Taverna nei suoi confronti. Tre anni e mezzo fa Conte parlava di nuovo corso, diceva ora ripartiamo da territori. Ora, dopo tre anni di gestione Conte-Taverna, i territori non esistono, attacca l'ex senatore. Ma l'asse con il PD per la costruzione del campo progressista rischia di vacillare non solo per colpa delle regionali, ma anche dei comuni. Tra il voto in Emilia e Umbria e l'Assemblea 5 Stelle, a Torino i sindaci si riuniscono in Assemblea per eleggere il loro nuovo presidente dopo il mandato di Antonio De Caro. I candidati alla vigilia sono il padrone di casa, Stefano Lorusso, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con il secondo favorito alla vigilia, forte dell'asse Schlein-Conte, con Goffredo Bettini, gran cerimoniere del campo largo, a benedire l'intesa. Una scelta che Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e figura centrale nella costruzione di un nuovo terzo polo, non gradisce, anche nell'ottica di un'alternanza nord-sud. Una situazione che ricorda molto da vicino quanto è successo 13 anni fa, quando alla Fiera del Levante, l'allora sindaco di Bari, Michele Emiliano, entrò da favorito nel conclave dei sindaci, che però scelse all'ultimo minuto Graziano Del Rio, sindaco a Reggio Emilia, con Pereluigi Bersani, segretario PD, affari da pacere. I primi cittadini centrodestra, allora, erano poche unità. Chissà se stavolta, sfruttando le divisioni del centro-sinistra, potrebbero tentare lo sgambetto. Un minuto di silenzio. Si chiude una settimana importante, giorno dopo giorno un tassego in più su quella mastodontica inchiesta al lavoro della Procura di Milano e della DDA sul dossieraggio, con le prime smagliature nella rete dei presunti spioni, e anche una linea difensiva che emerge, trapela gli stessi hacker che dicono, ci accusate di atti che sono impossibili poi da portare a termine. Stiamo facendo la trasformazione da Ikea a boutique, stiamo diventando boutique, sostiene l'esperto informatico Samuele Calamucci al telefono con l'ex superpoliziotto Carmine Gallo, che gli risponde, noi siamo già a un livello alto adesso, figurati. E il 5 settembre 2024, qualche settimana prima che l'Equalize, la società amministrata dallo stesso Gallo, ritenuto una sorta di fabbrica di dossieraggio, venga spazzata via dall'inchiesta giudiziaria della DDA di Milano, e questa conversazione agli atti dell'indagine racconta come gli indagati puntassero in alto. Almeno 767 persone dossierate, mediante sfiltrazione delle banche dati da parte del gruppo dell'Agenzia Investigativa, di cui Enrico Pazzali, ormai ex presidente della Fondazione Fiera Milano, era a capo. In un'informativa dei Carabinieri che agli atti, c'è anche una foto dell'auto di Pazzali, sul cruscotto campeggia una paletta della prefettura, l'istituzionalizzazione delle attività di Equalize passa anche dall'accostamento tra il suo presidente e gli enti e le organizzazioni dello Stato e il commento dei Carabinieri. Ieri sono sfilati davanti al giudice per le indagini preliminari, sei indagati, di cui quattro agli arresti domiciliari, hanno scelto di restare in silenzio, qualcuno di loro però ha fatto dichiarazioni spontanee. L'investigatore privato, collaboratore di Equalize, Massimiliano Camponovo dice Anche Carmine Gallo, considerato l'anima della presunta associazione a delinquere, l'uomo che intercettato diceva di essere stato nei servizi con Marco Mancini e Giuliano Tavaroli, si avvale della facoltà di non rispondere, ma dichiara Per 40 anni ho servito le istituzioni, ho sempre collaborato con le istituzioni e lo farò anche stavolta e chiarirò tutto. Il primo a entrare nella stanza del giudice e restare in silenzio è stato Samuele Calamucci, l'informatico di riferimento di Equalize secondo i magistrati e l'hacker che avrebbe violato il database del Ministero dell'Interno, carpendo notizie, top secret, mentre l'unico a fare qualche ammissione davanti al GIP sarebbe stato il poliziotto, ora sospeso Marco Malerba, avrebbe ammesso diversi accessi abusivi a sistemi informatici pubblici, parlando di una sorta di do-ut-des, uno scambio di favori tra lui e Carmine Gallo, quando questi era il suo capo al commissariato di polizia di Rò. Torniamo adesso a parlare di quel naufragio avvolto nel mistero da ancora molte incognite del supervegliero a Porticello. Ci sono nuove ipotesi e una nuova perizia. I sommuzzatori della Marina Militare sono tornati sul Besian, adagiato a circa 50 metri di profondità nelle acque di Palermo. Hanno recuperato altri dispositivi importanti per ricostruire le varie fasi del naufragio del veliero affondato nella notte tra il 18 e il 19 agosto a Porticello, nel Palermitano, causando la morte di sei passeggeri e del cuoco di bordo. Non si sa se sia stato anche recuperato l'hard disk che il magnate britannico e armatore Mike Lynch, proprietario del veliero, morto nel naufragio, portava sempre con sé e che secondo la CNN potrebbe contenere informazioni riservatissime sull'attività dei servizi segreti stranieri. Anche il New York Times torna a parlare del misterioso affondamento del Besian. L'autorevole quotidiano statunitense scrive che sarebbe stato soprattutto l'albero maestro con le sue dimensioni eccezionali, 72 metri di altezza e 40 tonnellate di peso, a causare il naufragio. Il New York Times ha condotto un'inchiesta consultando i documenti tecnici di costruzione della barca e le simulazioni computerizzate del movimento dello yacht. Ha intervistato anche una dozzina tra architetti navali, ingegneri ed esperti che avrebbero individuato soprattutto questa vulnerabilità nella progettazione. Il Besian rappresentava un'eccezione nella serie delle navi super lusso della Perini che hanno tutte e due o tre alberi anziché uno solo, una variante che avrebbe reso l'imbarcazione più vulnerabile nelle tempeste violente. Per abbassare il baricentro i costruttori avrebbero creato una zavorra per contrastare la predisposizione dello yacht ad inclinarsi, peso che sarebbe stato accatastato però verso la parte posteriore della nave anziché distribuito su tutto il fondo dello yacht. Durante la tempesta dell'agosto scorso l'albero con una sorta di effetto leva avrebbe inclinato l'imbarcazione fino a 90 gradi facendo entrare in pochi minuti tonnellate di acqua. Una ricostruzione giudicata risibile dalla società proprietaria degli asset di Perini Navi di Viareggio che ribadisce l'inaffondabilità della nave. Il quotidiano La Repubblica invece pubblica quelli che sarebbero i risultati dell'inchiesta dei periti della Guardia Costiera. Due porte stagne sarebbero rimaste aperte, quella di Poppa che collega il locale tender alla sala macchine e una seconda porta sul ponte inferiore da dove si accede alle cabine. Da quei due accessi lasciati spalancati sarebbe entrata l'acqua che avrebbe causato l'affondamento del veliero in pochi minuti. Dunque arriviamo allo sport e il campionato di calcio in pieno corso. Sono giorni serrati, turno infrasettimanale, già di nuovo la vigilia per esempio per Milan e Juventus che tornano in campo domani. Quel che è successo ieri, vittoria delle Romane, vittoria della Fiorentina. Hanno tanti punti in comune, segnano tanto, vincono tanto anche in Europa. La Fiorentina nel mese di ottobre non ha fatto altro, sei partite tra campionato e conference tutte vinte. La Lazio può vantare nove successi su 13 gare, coppe comprese. Sono le due sorprese di questo inizio di stagione. Costruite allo stesso modo con un mercato estivo perfetto senza spese folli, la Lazio in pratica ha speso poco più della metà di quello che la Juve ha investito per il solo Dakar Sluis. Rivoluzioni silenziose, acquisti mirati, scoperta di talenti nuovi, rilancio di altri emarginati o di giocatori alla ricerca di un'altra possibilità dopo lunghi infortuni come De Gea, simbolo della nuova Fiorentina che ieri a Marassi ha parato in pratica tutto, permettendo alla Viola di resistere al finale di rabbia del Genova o come Gosens, autore del gol vittoria. Vincere così, lottando peraltro senza i due giocatori più forti, Ken e Gudmundson dà più forza al gruppo, ha sottolineato Palladino, un tecnico giovane che ha assemblato una squadra capace di uscire indenne anche dalla burrasca. La Fiorentina è terza con l'Atalanta e la Lazio che attualmente gioca il calcio più bello della Serie A. Il merito è di chi la guida, Baroni un anno fa salvò il Verona che a metà torneo sembrava spacciato, indebolito dalle cessioni dei calciatori più forti per motivi economici, pressione, dominio sulle seconde palle, feroce nei duelli, quel Verona si salvò così. Nel modo di giocare di Baroni, il coraggio di attaccare è successo anche a Como, dove la Lazio ha colpito velocemente dilagando e chiudendo la gara addirittura con cinque gol all'attivo, otto nelle ultime due partite. La doppietta di Castellanos, la forza devastante di Tavares che rappresenta l'autentica novità del campionato e ieri è stato fermato solo dal Rosso per doppia munizione la seconda giovinezza di Pedro. Segnali di vita arrivano anche dal pianeta Roma che ha battuto il Torino con merito, se vera gloria lo si capirà già domenica a Verona ma intanto Iuri ci ha ritrovato un po' di serenità e anche un centrocampo che funziona con epporta intensità e geometrie le febrio e rapidità aggiungeteci il talento di Dybala che vede gol che noi umani non vediamo eppure la voglia di Baldanzi e Pisilli non è tantissimo ma abbastanza per voltare pagina. E' già vigilia dell'undicesima giornata domani il menù propone Udinese Juve e Monza Milan partite decisive per Tiago Motta e Fonseca e entrambi sanno che gli scudetti non si vincono a novembre ma si cominciano a perdere. Allora ancora due notizie di sport innanzitutto il tennis e il torneo Master 1000 di Bersin programma oggi quarti di finale occhi puntati sulla sfida tra Rune e De Minore poi Sverev contro Zizipas in palio ci sono punti importanti in visto delle ATP Finals di Torino per il tedesco Sverev inoltre importanti sono anche i punti del torneo parigino dopo la sconfitta sorpresa ieri di Alcaraz battuto dal beniamino di casa Humbert in 3 set lo spagnolo infatti ha così messo a rischio il secondo posto nella classifica ATP in caso di finale sarebbe proprio Sverev a superarlo e ad arrivare da numero 2 del mondo alle Finals in questo caso tra l'altro Alcaraz a Torino si ritroverebbe nello stesso girone di Yannick Sinner Allora abbiamo ancora una pagina dedicata al Moto Mondiale che ci riporta in qualche modo anche all'apertura innanzitutto perché mancano due gare alla fine di questo campionato per questo fine settimana in programma per le due ruote il Gran Premio a Sepang e poi l'ultima gara era in programma a Valencia vi dico era perché pochi istanti fa è arrivata la decisione ufficiale la gara della MotoGP di Valencia colpita così fortemente dalle alluvioni degli ultimi giorni è stata annullata una presa di posizione forte peraltro tra le altre è da segnalare da parte del campione del mondo il nostro Pecco Bagnaia che stamattina aveva detto di non essere disposto comunque a correre a Valencia non credo sia giusto per tutto quello che sta succedendo aveva detto Bagnaia che aveva aggiunto correre Spagna non è la scelta corretta lo dico anche a costo di perdere il mondiale dichiarazioni lo chiariamo che erano arrivate prima della decisione che è di pochi istanti fa immagino che di Spagna di quel che è successo si continui a parlare anche nel lavoro della redazione digitale buongiorno Giulia Avatani buongiorno a te Cristina sì naturalmente partiamo anche noi dal maltempo in particolare vi faremo vedere come stia interessando anche altre zone della Spagna spostandosi a sud ovest e vedremo le immagini di un tornado che ha provocato diversi danni in una zona verso il Portogallo poi faremo un passaggio per la campagna elettorale statunitense sentiremo le parole con cui Jennifer Lopez ha commentato le offese ai portoricani arrivati durante un evento della campagna repubblicana e questa volta invece presenziando al fianco di Kamala Harris per la sua di campagna infine molto più vicino a noi per una polemica che ha riguardato la fontana di Trevi e che ha incuriosito molto i visitatori e i turisti di tutto il mondo a te dunque pausa pubblicitaria torniamo in diretta tra pochissimi di nuovo insieme seconda parte della telegiornale linea di nuovo a te Giulia grazie Cristina ben ritrovati con la redazione digitale per gli aggiornamenti che partono ancora dalla Spagna vi portiamo a vedere alcuni effetti della pesante ondata di maltempo di meteo estremo che ha investito questo paese nello specifico la zona che vi mostriamo adesso investita da una tromba marina è la Huelva stiamo nella parte sud-occidentale dell'Andalusia guardate che fenomeno hanno documentato i cittadini sui social si tratta di una tromba marina anche di proporzioni abbastanza vaste che ha investito una zona che vi mostriamo dai media locali si trova proprio sotto il Portogallo ed è una regione dove si è diffusa un'allerta massima e le autorità locali avvisano di un pericolo estremo del rischio di allagamenti che tra l'altro si sono già verificati e invitano la popolazione a non uscire di casa e evitare gli spostamenti qui intanto vediamo alcuni effetti di questa tromba marina in questa località mentre ci sono stati allagamenti come dicevo e ve li mostro da questo contributo di TikTok questa è la località della Huelva e di cui alcuni quartieri sono stati allagati anche se non si hanno ancora notizie di vittime in questa zona speriamo anche che non ne arrivino fortunatamente forse il sistema di allerta ha funzionato meglio rispetto a Valencia dove come avete sentito nel corso del telegiornale ci sono stati invece avvisi tardivi ecco perché si è generata una situazione come quella che vedremo tra poco di persone in auto tranquillamente che stavano viaggiando senza sospettare nulla del livello di rischio cui andavano incontro qui vediamo per esempio il ponte di un'autostrada nei pressi di Valencia crollato e con le auto ancora sospese in questo video documentato dalla polizia e ripreso dagli elicotteri vediamo come una lunga fila di auto di camion sia ancora sospesa nel vuoto dopo il cedimento di un ponte dell'autostrada e qui purtroppo nelle auto sono state trovate molte delle vittime il cui bilancio si è ulteriormente aggravato mentre si cercano ancora sopravvissuti e dispersi ora voltiamo pagina e andiamo a occuparci della campagna elettorale negli Stati Uniti avete sentito nel servizio del telegiornale come diverse personalità portoricane abbiano reagito alle offese alle parole di offesa arrivate in un evento della campagna elettorale del partito repubblicano che addirittura aveva parlato di isola spazzatura isola di spazzatura tra queste personalità che si sono schierate apertamente in favore della candidata democratica Kamala Harris c'è stata Jennifer Lopez con parole molto nette e dure che sentiamo insieme americani E' un monumento senz'altro famoso in tutto il mondo, è la Fontana di Trevi a Roma che in questi ultimi giorni fa discutere per una piccola polemica che ha catturato l'attenzione di turisti e visitatori in generale. La Fontana è oggetto di un importante lavoro di manutenzione straordinaria che si concluderà entro la fine dell'anno, è stata completamente svuotata ma ciò che ha incuriosito è il fatto che il Comune abbia allestito una piscina nelle ultime ore per accogliere il lancio delle monettine dei turisti, dei visitatori, monete che vengono lanciate tradizionalmente come gesto benaugurante e poi vengono raccolte e donate alla Caritas. Qualcuno ha fatto polemica sull'installazione di questa piscina, c'è stata molta ironia sui social ma qui vediamo sul profilo Salviamo Roma il perché è stata messa questa vasca e la pagina lo spiega bene perché in pratica nonostante i turisti fossero tenuti a distanza dal monumento, dalle recinzioni che lo proteggono hanno continuato a lanciare monete che sono finite fra i San Pietrini complicando così notevolmente il lavoro di recupero da parte degli addetti che sono dovuti ricorrere anche a una sorta di aspirapolvere. Ecco perché è stato spiegato sui social la decisione allora di correre ai ripari con questa vasca che speriamo possa raccogliere tutte le monete lanciate dai turisti. Ora torniamo negli Stati Uniti perché sono circolate molto nelle ultime ore anche le immagini della tradizionale parata di Halloween una delle più spettacolari nel paese, senz'altro quella ospitata nel Village a New York e che si è svolta per il 51esimo anno di fila accompagnata dalle note di Michael Jackson. Grazie a tutti! E chiudiamo su queste note, vi ricordo il tg.lasette.it è l'indirizzo del nostro sito internet per tutti gli aggiornamenti sulle notizie del giorno oltre naturalmente ai nostri profili social, mentre la linea ora torna a Cristina Fantoni per gli aggiornamenti dal telegiornale. Grazie Giulia, non ci sono aggiornamenti importanti, sicuramente la possibilità di continuare a seguire la sette con Tagadà in questo momento e con più tardi l'edizione delle venti del telegiornale. Grazie, se volete ci vediamo anche nel weekend. Grazie a tutti!